Un milione e centomila firme di cittadini europei per chiedere alla Commissione UE di estendere l'obbligo di indicare l'origine in etichetta di tutti gli alimenti con la petizione europea Mangia originale, smaschera il tuo cibo. L'iniziativa è promossa da numerose organizzazioni e sindacati di categoria dei diversi paesi europei, in Italia in primis da Coldiretti e Campagna Amica. L'ammontare delle firme è stato comunicato in occasione del Forum internazionale dell'agricoltura e dell'alimentazione di Cernobbio e rappresenta un traguardo tutt'altro che facile, perché la petizione, per essere valida, oltre a dover raggiungere il numero di sottoscrizioni previsto, deve anche superare una soglia minima di adesioni in almeno sette paesi dell'Unione. L'Italia è stata capofila della petizione per la trasparenza della produzione alimentare. Nel nostro paese infatti si sono raccolte l'85% delle firme, di cui 34.000 solo in Abruzzo. E ciò non a caso, lo stivale è celebre nel mondo per i suoi prodotti gastronomici sempre più richiesti, ma falsi e tarocchi costano ogni anno 100 miliardi di euro all'export italiano. L'iniziativa dei cittadini si prefigge di rendere obbligatoria l'indicazione del paese di origine per tutti gli alimenti trasformati e non trasformati in circolazione in Europa, e questa è una battaglia antica quanto all'Unione. Il percorso di trasparenza infatti iniziò con la carne bovina nel 2002 a seguito dell'emergenza della mucca pazza, mentre dal 2003 è d'obbligo indicare varietà, qualità e provenienza nell'ortofrutta fresca. E dal 2004 c'è anche il codice di identificazione per le uova, ma non per gli ovoprodotti, nonché l'obbligo di indicare in etichetta la provenienza del miele. Di recente inoltre la Commissione europea ha specificato che l'indicazione dell'origine è obbligatoria anche su funghi e tartufi spontanei.